Tra poco, Let's Movie! Su Super! La loro vita... Dove sono i Cooper? ...è ad altissimo rischio! Andrà tutto per il meglio! Il nemico è ovunque! In piedi! Ora, più che mai, dovranno tenere gli occhi bene aperti! Quale gusto hai scelto per il tuo colluttorio, menta e spazzatura? Non perdere, che sì! Agente segreto, i nuovi episodi in prima tv! Da lunedì 8 gennaio alle 19.30 su Super! Ehi ragazzi! Guardate! La Befana! Non farti scappare la Befana più divertente di sempre! Con Chupa Chups Fan Party Mix! E la Befana V-Fun! Sono arrivate le calze più cool dell'anno! In ogni calza Rainbow High trovi sempre una borsetta e scarpe glam! Le speciali carte animate e altre sorprese! Nella calza Nanana trovi sempre una bambola, stickers e tattoo! Nella calza LOL trovi una bambola LOL! Un'altra LOL e tante sorprese! Quale sceglierai? Ieri ho espresso un desiderio a una stella! E la stella ha risposto! Oh oh, ciao! Fogano grezzo! Uh, bella scoperta Valentino! Un colpa di chiappa! Hai visto che cosa le è appena uscito dalle chiappe? Wish! Solo al cinema! Non è un quadrato, non è rotondo È la merenda più gioco del mondo Sono amici dei bambini Ecco qui i tre Nel cuore del bosco si nasconde il triangolino d'oro! Cerchelo anche tu dei succhi di frutta triangolini E prova a vincere una Nintendo Switchioli Ci sono cose che non dovrebbero incontrarsi mai Come il tacchino della nonna e il tuo lui vegetariano La domenica mattina è l'aspirante musicista O le ali del tuo assorbente Ma da oggi nuovo Linus Eta Ultra Ha le ali a incastro perfetto Che non si incollano tra loro E lo rimuovi con un gesto Lasciotto pulito numero uno Con incastro perfetto E per la notte Quando hai bisogno di più protezione Linus Eta Ultra Notte Più lungo E assorbe fino a otto ore Linus Ogni notte Una buona notte Dal mondo dei supereroi arriva la calza della Befana di Marvel Piena di straordinarie sorprese E tu? Quale supereroe sarai? Che per i più piccoli arriva la calza della Befana di Spide e i suoi fantastici amici? Gioca a salvare la città con le fantastiche sorprese E' arrivato Twister Air La sfida si sposta dal tappeto allo schermo Puoi giocare da solo o a squadre Scegli la difficoltà La canzone e... Si parte! Palla, muoviti e scatenati con Twister Air Ehi amici! Babbo Natale è qui! Perché è arrivata l'ora della festa di Natale E lui è pazzerello e divertente Come tutti i tuoi personaggi preferiti di Nickelodeon Conserva tutta questa pazzia con Mega Natale Tutti i giorni alle 14.45 e alle 20 su Nickelodeon Ehi cuccioli! Siete pronti per il Natale? Andiamo in slitta ad aiutare Babbo Natale E scartiamo i regali Misciti alle avventure invernali In Natale con i cuccioli Tutti i giorni alle 11 e alle 20 Solo su Nick Junior E ora, Let's Movie su Super Il Natale sta arrivando E vogliamo festeggiarlo Tra sorriso e felicità Un Ate Ate a